Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro posso essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi mi è stata ispirata da uno dei vostri commenti, quindi insomma spero di farvi felici. Abbiamo tre tipi di scelte, la prima scelta è questa agata rossa, la seconda scelta è questa calcite bianca e la terza scelta è questa pietra rosa, caffè e nera che si chiama Rodonite. Bene, fate la vostra scelta e ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti alle persone che hanno scelto la gatta rossa, quindi andiamo un pochettino a vedere diciamo così il flusso finanziario, i movimenti a livello finanziario. Vi ricordo che come sempre sono tendenze energetiche, o meglio i tarocchi leggono quella che è la tendenza energetica più probabile, ok? Quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi, voi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare l'universo, ok? Bene. Mostrami la situazione finanziaria delle persone che hanno scelto la gatta rossa Abbiamo un bel 6 di spade al contrario, un 10 di coppe, un asso di denari Dunque, con quel 6 di spade al contrario iniziamo subito con la necessità di allontanarsi o probabilmente sarebbe una di quelle cose che si dovrebbero fare, cioè allontanarsi da un qualche tipo di situazione, ok? Anche se in realtà essendo a campo volto è come se questa sorta di viaggio, se questa sorta di allontanamento non si stesse facendo Non deve essere necessariamente da un posto fisico, può essere semplicemente anche solo da alcune credenze limitanti piuttosto che da alcuni sensi di colpo che c'è un qualche tipo di attitudine, atteggiamento, sensazione o situazione da cui bisognerebbe staccarsi ma tendenzialmente non viene fatto questo distacco Il 10 di coppe è una bellissima carta, parla comunque di quello che è una sorta di appagamento quindi non vi sento poi così male dicendola tutta e anzi avete anche un bellissimo asso di denari quindi qui c'è qualcuno che o sta aspettando di iniziare qualche cosa di nuovo sta aspettando un dono, sta aspettando un aiuto sta aspettando qualche tipo di abbondanza se vogliamo l'asso di denari fa anche riferimento a quello che sono degli regali, dei doni, ok? Diciamo così che per riuscire se vogliamo a raggiungere quello che è il vostro obiettivo, ok? c'è qualche cosa sul quale dovete lavorare può essere a livello interno e potrebbe essere collegato con questo 6 di spade al contrario o potrebbe anche fare riferimento a qualche cosa del passato perché con la sacerdotessa potrebbe anche fare riferimento a qualche cosa del passato io vi dico che la stesa finisce poi con un 6 di bastoni, un 9 di bastoni e il giudizio al contrario vorrei farvi notare che sia la prima che l'ultima sono uscito al contrario, ok? quindi quello che sento io per certi versi è che comunque arriverà quello che voi ritenete essere successo per voi arriverà quello che è il riconoscimento, ok? ecco di nuovo con la carta del giudizio c'è un riferimento al passato e le carte qui in questa zona vi dicono di scusate dicono di fare un po' attenzione a come difendere come difendere voi stessi ma mi vorrebbe da dire anche un po' il vostro patrimonio allora andiamo a vedere nello specifico spiegate il 6 di spade ok allora abbiamo un 3 di bastoni e un 7 di pentacoli al contrario sì di nuovo il 3 di bastoni fa riferimento a un progetto a un viaggio a un qualche tipo di spostamento insomma che siete impazienti di fare ok? perché 7 di denari al contrario se al dritto parla comunque di avere la pazienza e di aspettare i frutti al contrario è proprio il contrario appunto cioè nel senso che state un po' friggendo per andare da qualche parte per fare questo tipo di movimento sento può anche essere un movimento finanziario perché magari siete lì che state pensando se investire o meno in qualche tipo di di attività diciamo andiamo a vedere il 10 di coppe wow la torre abbiamo la torre abbiamo il 3 di coppe abbiamo il re di bastoni e il 9 di coppe probabilmente c'è da diciamo così rivedere o interrompere qualche tipo di collaborazione perché è vero che adesso avete la carta diciamo così dell'unione di gruppo dell'unione familiare dell'appagamento anche proprio ok però qui sento che c'è qualche cosa che bisogna lasciarsi indietro potrebbe essere una collaborazione una società una persona in particolare o comunque c'è un qualche tipo di gruppo che forse non è poi così stabile come sembra apparentemente e di qua abbiamo il re di bastoni il 9 di coppe è un po' come se doveste ritrovare il vostro potere personale per riuscire a raggiungere il sogno che vi siete prefissati insomma andiamo a vedere l'asso di pentacoli per piacere l'asso di pentacoli è spiegata da un cavaliere di coppe dalla giustizia dal quadro di bastoni e da un quadro di pentacoli al contrario scusate un attimo scusate dovevo soffiarmi il naso quindi con questo asso di denari spiegato da queste carte io sento che c'è qualcuno qui che sta aspettando un determinato tipo di offerta potrebbe essere un amante di stipendio potrebbe essere una nuova collaborazione potrebbe essere la firma di un contratto perché comunque abbiamo anche un quadro di bastoni e qui il quadro di pentacoli al contrario è come se dicesse non attaccatevi a qualche cosa potrebbe appunto essere al fatto di avere questo aumento piuttosto che questo nuovo cliente essendoci la giustizia sento che potrebbe cioè è come se voi vi aspettaste questa cosa per giustizia divina una cosa del genere come se per voi fosse un diritto a vero come se vi meritaste questa cosa andiamo a vedere la sacerdotessa per piacere un 10 di coppa al contrario e un 6 di coppa al contrario quindi sì di nuovo un riferimento al passato è come se ci fosse qui qualcosa legato potrebbe essere alla famiglia o legato ripeto a qualche tipo di situazione del passato per qualcuno potrebbe fare riferimento ai figli ed è come se non riuscisse a vedere chiaro per queste due cose ok vi faccio notare che qui 10 di coppa è riuscita al dritto e qui al contrario come se in realtà non ci fosse un reale un reale appagamento della vostra situazione finanziaria allora qui abbiamo un diavolo al contrario e poi vediamo che altro ci danno è un 8 di bastoni guardate il punto è che il tipo di riconoscimento questo osso di denari questo regalo questo dono questo dono dal cielo proprio questo nuovo inizio che state aspettando in qualche modo arriva con i 6 di bastoni ok arriva quello che è il riconoscimento però ecco abbiamo un diavolo al contrario quindi fate un attimino attenzione a quelle che sono le false verità mi verrebbe da dire ok ok allora andiamo avanti vediamo il 9 di bastoni abbiamo un appeso al contrario e la morte al contrario qui di nuovo da un lato qualche cosa si sblocca e dall'altro c'è bisogno di tagliare qualche cosa di vecchio in questo momento non va fatto è un po' il taglio che sentivo qui c'è qualche cosa che vi impedisce di prosperare a livello economico andiamo a vedere il giudizio il contrario un cavaliere di bastoni al contrario e un 5 di denari sì allora qui sento che probabilmente non state facendo il movimento il giusto movimento che bisognerebbe fare per quello che riguarda questa delusione di come parla il 5 di pentacoli 5 di pentacoli alle volte fa riferimento alle perdite economiche quindi fate attenzione a come investite in questo periodo ok è come però io ho la sensazione che voi stiate aspettando un qualche tipo di movimento dipendendo da un passato perché abbiamo diverse carte che fanno riferimento a quello che lo spostarsi il viaggio piuttosto che riferimento al passato quindi o qualcuno qui ha ancora in piedi delle situazioni vecchie per cui non riesci diciamo così a tanto a uscire da questa situazione finanziaria anche se non è che state poi così male è vero c'è da fare qualche taglio probabilmente però non vi sento così messi in mani insomma bene andiamo a vedere un messaggio da parte degli ci sono le carte girate da parte di questi oracoli vediamo che cosa vi dicono un consiglio un consiglio per gli amici della gata rossa spirito libero essere uno spirito libero è scusate è come si dice galleggiare senza muri volare senza giudizio e amare senza condizioni bello molto bella ecco allora concludendo diciamo che probabilmente si avrete qualche aggiustamento da fare in questa sezione dove appunto si parlava del gruppo però io poi sento che qui qualche cosa si muove perché comunque avete la carta del successo è vero che avendo queste due carte qui e queste due carte qui c'è bisogno comunque di fare un taglio è la stessa cosa che diceva qua all'inizio c'è da tagliare qualche cosa magari sono le spese superflue magari non lo so è qualche qualche tipo di taglio legato una ristrutturazione di una casa piuttosto che c'è da stare un attimino attenti però ecco non vi sento così male ok perché comunque avete anche qui la carta del 6 di bastoni che parla comunque di quello che è l'abbondanza l'appeso il contrario quindi c'è uno sblocco ok bene cari amici della gata rossa spero di avervi aiutato se la stesa vi è piaciuta potete mettere un like potete condividere commentare o iscrivervi se non l'avete ancora fatto io vi ringrazio di essere stati qui con me fino ad adesso vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e benvenuti alle persone che hanno scelto il calcedonio la calcite scusate o il calcedonio non mi ricordo mai scusatevi calcite perché il calcedonio in quello striato ok allora vi ricordo come sempre che sono lettori generali quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo bene mostrami le tendenze energetiche probabili a livello finanziario per le persone che hanno scelto la pietra bianca fante di pentacoli al contrario 4 di coppe 8 di coppe la stella 6 di coppe 6 di bastoni e 6 di 666 e 6 di spade bene allora diciamo che con questo fante di pentacoli al contrario non vi sento poi così tanto focalizzati sul pezzo su quello che è la vostra situazione finanziaria ok anzi probabilmente siete più che diciamo così pensare a come potete magari guadagnare di più piuttosto che investire i soldi che avete siete ancora in una fase di pensiero state ancora cercando di capire che cosa sia meglio fare io trovo ok l'otto di coppe mi parla di qualcuno che se ne vorrebbe andare che vorrebbe lasciare qualche cosa dietro le spalle vorrebbe magari allontanarsi vorrebbe prendere un altro tipo di percorso e c'è proprio questo desiderio con la stella ok che si fa un attimino fatica se vogliamo dire così a concretizzare qui siete in una fase di pensiero vorreste andarvene però in realtà c'è sempre questa sorta di desiderio che non viene non viene soddisfatto mi verrebbe da dire ok sento che è come se ci fosse qualcuno che non sta studiando abbastanza per riuscire a raggiungere quello che è il proprio desiderio come se non si stesse applicando abbastanza nella seconda parte della lettura abbiamo i tre sei come vi ho detto prima sento che c'è un riferimento al passato con questo sei di coppe quindi può darsi che qualcuno qui stia un pochettino pensando a quello che gli manca del passato ok magari c'era una situazione di un certo tipo che andava bene che soddisfava però comunque io alla fine ho il sei di bastoni quindi un qualche tipo di riconoscimento potenzialmente ci sarà potrebbe essere un aumento di stipendio o semplicemente potrebbe essere che qualcuno si lascia indietro determinate situazioni o determinate credenze pensieri insomma andiamo a vedere il fante di ok il fante di denari al contrario spiegato da un 10 di pentacoli da un 7 di spade al contrario da un altro 4 di coppe al contrario e da un re di coppe allora io credo che qui ci sia qualcuno che potrebbe essere abbia subito un furto o comunque sia non so se ne siete consapevoli o no però potrebbe essere che qualcuno diciamo così o vi abbia detto delle false delle mezze verità o vi abbia detto delle bugie oppure può anche dare questo set di spade oppure può anche darsi che proprio qualcuno diciamo si sia un po' approfittato o approfittata ok o perlomeno qualcuno ci ha provato a chiedervi dei soldi magari siete voi che avete chiesto dei soldi ma vi sono stati negati e di conseguenza questa persona potrebbe essere che insomma si sia adoperata per farsi di fregarvi qualcosa diciamo così ok andiamo a vedere il 4 di coppe perché il 4 di coppe mi parla comunque di una persona 4 di bastoni 3 di bastoni 8 di bastoni si qui è come se ci fosse stato qualcuno che come dicevo prima ne ha approfittato ok e in questo momento bisogna semplicemente dire a questa persona di o lasciare l'azienda piuttosto che quello che sento io e che avete in testa di fare un viaggio e comunque con questo 4 di bastoni molte persone le sento in una fase stabile del lavoro ok perché il 4 di bastoni rappresenta quello che potrebbe anche essere una firma di un contratto quindi potrebbe essere che qualcuno stia proprio aspettando di firmare qualche contratto per qualcun altro potrebbe essere o cioè potrebbe essere un contratto di lavoro magari anche un contratto relativo di una casa no infatti qui comunque c'è qualcuno che se ne vuole andare spiegatemi ok 5 di bastoni per lotto di coppe 5 di bastoni 5 di pentacoli al contrario e la torre sì qui c'è qualcuno che si è un po' stufato se vogliamo di un qualche tipo di situazione di tutti questi conflitti di essere presi in giro anche mi verrebbe da dire e c'è bisogno di rompere quelle che sono le sicurezze magari proprio andandosene o facendo andar via l'altra persona spiegatemi la stella per piacere allora la stella è spiegata da un re di spade dal fante di pentacoli che avevate già qui e da un uove di bastoni quindi sì io credo che qui ci sia qualcuno che ha voglia di mi verrebbe da dire di diventare bravo o brava in qualche cosa ok io credo che ci sia veramente la determinazione per raggiungere quello che è il vostro obiettivo ecco forse fate attenzione perché non vi state difendendo molto mi parlano di password quindi fate attenzione con il computer password quelle cose lì ok andiamo a vedere 6 di coppe per piacere grazie 6 di coppe spiegato da un 2 di pentacoli da un 3 di pentacoli di nuovo da un 8 di coppe e da un asso di spade qui di nuovo sento che c'è qualcuno che o deve essere mandato via o deve andare via ok perché è un po' come se non ok magari c'è un legame di lunga data di vecchia data insomma con questa persona però quello che sento io con queste due carte è che c'è una sorta di altalenamento una sorta di alti e bassi per quello che riguarda l'assunzione delle responsabilità di quest'altra persona o magari siete voi comunque abbiamo di nuovo un 8 di coppe e un asso di spade per qualcuno è diventato tra virgolette imperativo il dover comunicare perché la carta della comunicazione ce l'avevamo anche qui il fatto che si voglia andare via si voglia andare da un'altra parte insomma abbiamo poi un bellissimo 6 di bastoni che fa promettere molto bene il carro sì allora questo 6 di bastoni mi parla di è come se riusciste il carro scusate è 9 di spade è come se riusciste ad andare diciamo così oltre i vostri dubbi è come se riuscisse a trovare quello che potrebbe essere la giusta direzione in campo finanziario mi verrebbe da dire quindi come investire come muoversi il carro parla anche molte volte di quello che è una capacità di scegliere tra due cose oppure per qualcuno fa riferimento all'acquisto di una macchina potrebbe anche essere fatemi vedere questo grazie allora 6 di spade spiegato da un 6 di spade mi sembra giusto 6 di spade il papa e un 7 di coppe io credo che le carte qui vogliono proprio dire allontanatevi da quelli che sono i dogmi da quello che sono le regole della società ok vagliate valutate quelle che sono tutte le possibilità che avete dunque diciamo che sinceramente non vedo grossi movimenti economici ma non vedo neanche perdite cioè nel senso che probabilmente qui si tratta di capire da che parte si vuole andare ok perché comunque si parte con un 10 di pentacoli quindi sento che non siete messi poi così male a livello economico diciamo così però ecco forse c'è la necessità di mettere un attimo i paletti 9 di bastoni per quello che riguarda potrebbe essere una casa perché due riferimenti comunque una casa o un qualche tipo di gruppo lavorativo ok c'è una comunicazione che deve essere fatta perché me lo dicono due volte è una sorta di allontanamento che non so se è il vostro piuttosto che di un'altra persona però per riuscire diciamo così a smuovere la vostra situazione finanziaria c'è la necessità di muoversi carro 3 di bastoni 6 di spade 6 di spade 8 di coppe ce l'avevo anche di qua 8 di coppe tante carte mi parlano di movimento quindi come se dovesse spostarvi da dove siete in questo momento bene andiamo a vedere un messaggio da parte di questi oracoli vediamo che messaggio di incoraggiamento vi danno per gli amici grazie no limiti o zero limiti tu sei celestiale ah ok allora tu sei celestiale essendo o vivendo diciamo il tuo potenziale illimitato c'è così tanto per te da condividere wow ecco guardate non è uscito un quadro di denari ma la sento molto così cioè è un po' come se le carte vi dicessero ok hai tanto di quel potenziale che puoi brillare al di sopra di tutto questa stesa puoi brillare al di sopra di tutti fondamentalmente bene cari amici della seconda scelta io vi ringrazio di essere stati qui con me spero che la lettura vi sia stata utile se sì potete mettere un like potete condividere iscrivervi se non l'avete ancora fatto commentare io vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime letture ciao ciao ed eccoci con gli amici della rodonite andiamo subito a vedere i vostri movimenti finanziari io vi ricordo che le carte leggono la più probabile tendenza energetica ok sono letture comunque fatte per un collettivo quindi prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo ok bene andiamo a vedere mostrami la situazione finanziaria delle persone che hanno scelto la rodonite otto di coppe tre di pentacoli diamanti otto di bastone al contrario dunque lotto di coppe mi fa capire che si parte da una situazione di distanziamento per qualcuno o qualcuno se n'è andato o sta pensando di andarsene l'eremita io credo che ci sia qualcuno che se ne sia andato il tre di pentacoli è una carta che parla di quelli che sono i progetti di quelli che sono i lavori di gruppo o quello che potrebbe essere la responsabilità ok potrebbe essere un aumento di stipendio per qualcuno o per qualcun altro potrebbe essere l'acquisto di una casa andiamo poi a vederlo dopo nello specifico ok allora abbiamo poi anche la carta degli amanti che può parlarmi di quello che è una relazione che magari è diciamo così implicata se vogliamo in quello che è il vostro flusso finanziario oppure mi potrebbe parlare di un qualche tipo di scelta che va fatto diciamo così con il cuore e di fatti abbiamo comunque anche poi un otto di bastoni al contrario che mi dice che questo tipo di scelta magari è già stata fatta ma non è ancora stata comunicata non c'è ancora stato diciamo la comunicazione ufficiale abbiamo poi qui la carta dell'eremita la carta dell'eremita è una carta che parla di un'energia solitaria di qualcuno che va per la propria strada quindi sento un po' che se questo progetto ce l'avete in coppia o un progetto in coppia può essere una coppia diciamo così come finanzato e fidanzato marito e moglie ma può anche essere una coppia semplicemente di soci di collaboratori ok sento che per certi versi c'è la necessità di staccarsi di proseguire diciamo così in quello che è la vostra strada da soli ok perché comunque questo progetto io lo vedo in comune e abbiamo poi un bellissimo asso di denari che parla di doni parla di nuovi inizi parla di quello che è una nuova strada una nuova possibilità un qualche cosa di nuovo che mette radici è chiaro che sento che in tutta questa fase allora se nella prima fase della lettura diciamo così c'era il pensiero di dover lasciare indietro qualcuno o qualcosa un progetto delle responsabilità qui è un po' più chiaro il fatto che si vada per questa strada è chiaro non è una strada così diciamo indolora perché comunque effettuare dei tagli porta sempre una sorta di dolore ma comunque con il due di bastoni si tende a guardare il futuro si tende a fare dei nuovi progetti ok andiamo a vedere l'otto di coppe per piacere grazie abbiamo un asso di coppe e un otto di pentacoli al contrario io qui sento che è come se qualcuno non avesse voluto iniziare un nuovo lavoro probabilmente o se ne è andato per iniziare un nuovo lavoro anche se mi da di più che se ne è andato per non iniziare perché comunque queste due carte sono al contrario allora il tre di pentacoli è spiegato da un due di bastoni perché probabilmente in questa fase della lettura siete ancora in una zona diciamo dove non si riesce a vedere troppo in là se vogliamo e abbiamo anche infatti un due di squadra il contrario che mi parla di quello che è una scelta di quello che è dove avere i dubbi io sento che c'è qualcuno che sta valutando se stare o se andare fondamentalmente se stare in questo progetto che può essere appunto come dicevo la casa può essere un progetto di gruppo può essere un progetto di lavoro o se stare o se andare e potrebbe essere sia a livello fisico ma anche proprio a livello economico a livello di mettere dei soldi ok allora andiamo a vedere gli amanti per piacere vediamo di che cosa parlano questi amanti 10 di bastoni al contrario e la regina di spada al contrario re di bastoni al contrario e c'è qualcuno qui che ha bisogno di lasciare indietro una persona fondamentalmente potrebbe anche essere una situazione potrebbero essere tutti questi pensieri queste preoccupazioni di come parla il 10 di bastoni al contrario ok ma è come se non avesse abbastanza lucidità mentale in questo momento andiamo a vedere lotto di bastoni al contrario di che cosa mi parla re di spade qui avevate la regina di spade sì allora io sento che davvero dovete fare dei tagli che in questo momento non state facendo può essere che appunto come vi ho accennato prima che qualcuno qua se ne debba andare con questo 8 di coppe o che se ne voglia andare o magari potrebbe anche essere che qualcuno voglia mandare via qualcun altro comunque c'è uno spostamento di persona diciamo così però io credo che non abbiate ancora bene chiaro che cosa tagliare è come se steste con questo re di spade pensando organizzando pianificando ma ancora siete in fase di studio in fase di valutazione fatemi vedere l'eremita per piacere l'appeso al contrario ancora una carta per piacere 7 di pentacoli al contrario guardate l'eremita al contrario mi parla di sblocco probabilmente il fatto di prendervi un momento di staccarvi da quello che magari era il progetto iniziale vi dà la possibilità di sbloccare parecchie cose il 7 di pentacoli è quella carta che mi parla dell'attendere ok i frutti del proprio lavoro in questo caso è al contrario come se foste un po' impazienti e io sento che con questo eremita quindi sbloccando le cose come dicono la peso e cercando di prendere quello che è la vostra verità la vostra strada arriva questo fantastico asso di denari quindi è un nuovo inizio può essere un dono di tipo proprio economico andiamo a vedere di che cosa ci parla questo asso di denari per piacere grazie fante di bastoni e il sole quindi guardate anche il sole parla di abbondanza parla di crescita parla di prosperità quindi arrivano dei cambi a livello monetario dopo questo cambio di istituzione io sento che le finanze iniziano a muoversi ecco arriva qualche cosa potrebbe essere una persona giovane visto che c'è un fante di bastoni che magari vi dà una mano a capire determinate cose a scrivervi di idee oppure che vi dà proprio un aiuto in senso economico ok per altri versi sento che questo nuovo inizio vi darà un fortissimo entusiasmo quindi è per quello che vi sentirete come dire gioiosi il sole mi parla sì di protezione mi parla di aver fiducia anche nella vita andiamo a vedere il 3 di spade per piacere da un asso di bastoni e da un cavaliere di bastoni qui io credo che per qualcuno c'è anche la carta degli amanti quindi per qualcuno potrebbe anche far riferimento a lasciare magari un partner con il quale o con la quale in questo momento si ha un'attività lavorativa o si ha comunque un qualche tipo di magari investimento comune e potrebbe essere che il fare questo tipo di movimento faccia un po' faccia un po' soffrire ecco anche se ve lo dico detta così vista così ha tutto l'impressione di essere un qualche tipo di ha come se ha come un riferimento una connotazione di tipo un po' romantico barra letto nel senso che comunque queste tre carte insieme io vedendole così è come se ci fosse qualcuno qui che dopo un incontro vi ha creato del dolore andiamo a vedere il 2 di bastoni perché potrebbe anche semplicemente essere che dopo che voi abbiate fatto questo tipo di scelta con le remita che appunto ci sia questo nuovo inizio e che potrebbe anche essere visto da un altro punto di vista in effetti questo asso di bastoni e il cavaliere di bastoni cioè nel senso che perché abita anche il sole il sole parla anche di impulsività il cavaliere di bastoni anche parla di azione parla di movimento e l'asso di bastoni anche quindi può anche darsi che siate un po' troppo impulsivi nell'agire nel fare un qualche tipo di movimento e quindi questo può portare a una sorta di sofferenza ok allora andiamo a vedere il 2 di bastoni spiegato da un 5 di coppe e da un re di denari bellissimo bellissima carta per finire la stesa io credo che qui c'è qualcuno che nonostante si senta magari un po' così proiettato nel futuro e anche nel passato perché questa è la carta della persona che guarda in avanti questa è la carta della persona che guarda indietro guarda quello che ha perso però abbiamo questo fantastico re di pentacoli alla fine quindi io sento che un qualche tipo di aiuto arriva vi ricordo che avevate anche qui il lasso di denari che è un dono che può essere veramente un aiuto economico da parte di qualcuno guardate cosa si è girato abbiamo gli amanti come avevamo qui e qui lo rivedo diciamo questo tipo di aiuto in questo re di pentacoli quindi non la vedo male ragazzi si probabilmente c'è da fare qualche diciamo così restyling qualche rinnovamento in questa fase della lettura per quello che riguarda questo progetto comune questa casa questa responsabilità diciamo ok ok andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi wow il mondo interiore mi parla e dice il tuo mondo esterno è un riflesso del tuo mondo interno e io aggiungo se volete cambiare il mondo esterno dovete cambiare prima il mondo interno cari amici della rodonite io spero che la lettura vi sia stata utile se vi è piaciuta potete mettere comunque un like potete iscrivervi condividere o commentare io vi ringrazio per essere stati qui con me fino ad adesso vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao